Bellissimo pubblico di due links, nel video di oggi andiamo a giocare un ulteriore mazzo che è uscito comunque nell'ultimo minibox, so che siamo un po' in ritardo ma ragazzi chiedo scusa se stiamo in microfono un attimo, dicevo chiedo scusa per questo per me è un periodo lavorativo molto molto impegnativo quindi purtroppo i video comunque usciranno un po' in ritardo ma non vi preoccupate che ragazzi comunque ho notato che questo deck in classificata devo dire che fino ad ora non l'ho incontrato neanche una volta eppure un peccato perché è un deck molto divertente e non male, può dire tranquillamente la sua e stiamo parlando del deck stupore, è un deck molto particolare basato tantissimo sulle carte trappole un po' come l'altra gestire realtà ma devo dire che queste carte trappole con vari effetti in base a quale mostro viene equipaggiato quindi o avversario o quello nostro che rende il deck una versione molto simpatica e molto particolare perché non mi è mai capitato di vedere dei deck che funzionano un po' in questa maniera ma prima di iniziare vi chiedo come sempre un like sulla fiducia e simpatia mentre se ancora non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi al canale per aiutarci a crescere e supportarci gratis ma adesso signori iniziamo a vedere i replay poi andiamo a spulciare la decklist e iniziamo subito ad affrontare la fanciulla fantasma quindi addirittura adesso sto affrontando un altergest quindi un mazzo veramente pesante qui siamo con il nostro bruchino, non ho inserito un extra deck perché comunque volevo semplicemente testare ed analizzare il mazzo quindi senza inserire ulteriori carte ma nella decklist state tranquilli che comunque ho inserito un extra deck quindi non vi preoccupate ok l'avversario non è un altro gesto come credevo ma è un pettore del tempo mazzo veramente rognoso iniziamo subito ad una carta magia e noi andiamo a prendere comunque il nostro diciamo mostro boss il prodigioso amministratore arlecchino quindi mettiamo giù la nostra assistente comica che ci permette di prendere una carta dal deck e posizionarla direttamente sul campo andiamo ad attivare la prima carta trappola equipaggiamento che noi andiamo ad equipaggiare ad un nostro mostro in questo caso per distruggere una carta all'avversario quindi attivare automaticamente il nostro mostro arlecchino dalla mano sul campo ecco l'avversario in catena varie cose distruggiamo la carta coperta e mettiamo il nostro 2006 automaticamente quando viene evocato un mostro dell'avversario noi possiamo equipaggiargli una carta dal deck al mostro dal deck al mostro dell'avversario quindi io metto la carta trappa lui effetto rapido lo bandisce va a bandirmi ulteriori carte con il coro e finisce qui in questa maniera ritorna di nuovo giù il mostro va andiamo a prendere il biglietto prendo un ulteriore mostro quindi la bandiamo giù di comica metto equipaggio addirittura la carta trappola all'avversario inoltre equipaggio anche un ulteriore carta trappola sembra un mostro dell'avversario andiamo a mettere coperto il primo mostro bandisco le carte vado a distruggere gli mostri sul campo perché a me interessa comunque bloccare in realtà i pittori e non fare in maniera tale che si ritrovi sempre sul campo lui rimette le carte dal cimitero alla mano usa la principessa attacchiamo diretto puliamo in questa maniera di nuovo il nostro arlecchino ritorna di nuovo sul campo in questo caso voglio distruggire ulteriormente le carte che tiene sul terreno in questo caso lui lo toglie subito ok io tramite l'effetto me lo bandisco su me stesso me lo equipaggio su un mio mostro grazie all'assistente comica ulteriore caos effetti che si attivano in una maniera veramente incredibile l'avversario sta afferendo le carte sul campo quindi sui pittori del tempo ragazzi cerchiamo sempre di più che altro andargli a distruggere le carte che tiene come mazzo comunque è molto fastidioso in realtà tacchiamo diretto l'avversario non ha modo per potersi difendere e alla fine la chiudiamo in questa maniera e stiamo affrontando qui Charles Princeton che non ricordo che caspita giocava devo dire sei vincente attuale 11 complimenti per non dire mei goioni e allora noi partiamo assistente comica tranquillamente equipaggiamo attrazione prodigio vortici vichinga comunque una anti becro e andiamo a mettere qui un'attrazione prodigo l'avversario inizia subito andiamo a togliere la carta magia comunque è veramente utile contro gli antichi guerrieri quindi gliela tolgo subito equipaggiandola al mio mostro ovviamente effetto la carta magia che si attiva l'avversario attiva vari effetti comunque attiva l'abilità prende il teni anzi il ten che volevo dire prende ovviamente il magistrale vediamo cosa combina lui attiva il magistrale vado a negarglielo quindi lo equipaggio all'avversario in questa maniera va di come caspia si chiama di link attivo la carta ulteriormente in questo caso vado ad equipaggiare il magistrale attivo l'effetto metto coperto l'avversario mette la carta magia ok finiamo un po' in questa maniera assistente comica mettiamo di nuovo ulteriore carta per bloccare di nuovo qualche effetto l'attivo di nuovo lui va in combo praticamente quindi si autodistrugge il suo mostro e mi fa riprendere in mano la comica io con la cattura vado a rubargli comunque il link perché è un link veramente fastidioso prodigiosa comica la rimettiamo giù facciamo questa volta un ulteriore link per toglierlo da davanti le scatole ecco che lui attiva la carta se la prende lui scatola la carta gli distrugge ovviamente il suo cattura l'avversario riattiva di nuovo incredibilmente il magistrale va giù con il mostro io comunque in questo caso vado ad equipaggiarlo all'avversario in maniera tale per attivare il suo effetto e prendimi finalmente comunque l'arlecchino che comunque era rimasto lì il poveretto antichi guerrieri scoppio drago va bene lui vediamo cosa vuole fare o combinare questa situazione mi attacca direttamente io lo vado a distruggere con forza riflessa e metto giù ragazzi il nostro arlecchino bandisco una carta vado a distruggere comunque la carta posizionata metto qui con la carta magia pesco un ulteriore mostro metto la comica prendo un ulteriore carta trappola da rimettere sul campo e attacco di nuovamente diretto e qui siamo contro fanciulla fantasma vediamo l'avversario questo se realmente non ricordo male dovrebbe essere forse lui l'alter gesto non ricordo male cremendo lp cremendo lp ok inizia l'avversario ed è un alter gesto ok ragazzi qui veramente pesante comunque quindi il nostro combito è quello di andargli a togliere le carte trappola e noi iniziamo subito classica giocata dell'assistente comica quindi andiamo a mettere giù un ulteriore carta trappola quindi preferisco quella che distrugge le carte il back row dell'avversario quindi posiziono la giara della dualità vediamo che cosa mi offre la ditta e prendo la forza riflessa questo è molto utile perché andiamo a bloccare un pochettino l'avversario ovviamente lui mi fa riprendere i mostri mi distrugge una carta sul campo tramite la squadra balista fa prendere ulteriore carte lui va di altre gestia e non attacca perché ovviamente la forza riflessa non può riuscire a toglierla prendiamo ulteriore carte in questo caso mi serve l'arlecchino ulteriore effetto attiva la carta trappola quindi in questo caso si attiva il mio arlecchino l'avversario vediamo cosa vuole combinare mette i conqueri mi nega l'effetto in ogni caso è pur sempre un 2006 mettiamo attrice comica e posiziono comunque le corse rapide per poter bandire un mostro una o meglio una carta dal cimitero dell'avversario l'avversario vediamo cosa combina posiziona la carta va bene ovviamente riprende quella che gli serve giustissimo lui attiva il setiquario mi toglie una carta io vado a equipaggiarla al mostro in ogni caso per andare a distruggere una carta coperta o meglio per mandare al cimitero una carta coperta attivo l'arlecchino distruggo 1 e 2 lo lascio tranquillamente a campo libero lui attiva gli effetti io gli bandisco una carta in questo caso mi sembra vado a scegliere il setiquario se non do male e si perché va a incatenarsi ok la carta rimane lì non sono riuscito anzi ad attivarla in tempo in realtà ecco quindi non è poco in porta la carta a questo punto lo ho equipaggiato a canadia per poterla girare in attacco e poter attaccare l'avversario e fare danni e me l'ho un poco dimenticato questa giocata ok lo ho equipaggio al mostro me lo sincero attivo l'effetto lo metto coperto attivo un'utilità di carta trappola gli distruggo la carta trappola e ragazzo va sempre di setiquario quindi mi fa riprendere sempre le carte in mano riattiva combo infinita comunque tra setiquario e carta trappola ulteriore carta me ne prendo questa volta due posiziono tutte e tre le carte coperte attacco distruggo multi impostori l'avversario forse sta un po' arrivando alle strette forse caso degli orrori l'attivo questa volta la equipaggio al mio assistente comica perché posso negare l'effetto di un mostro ma ne parleremo tranquillamente dopo ragazzi non vi preoccupate doppia manifestazione alter gesto perché qui ragazzi si va oltre ogni limite incredibile va bene l'avversario attiva tutto forse che si è rotta pienamente le palle setiquario lo attiva e fa riprendere le carte in mano il caos più totale va bene di nuovo setiquario riprende la carta trappola io rimetto il biglietto del tempo incredibile qua come si chiama metto un'ulteriore comica di nuovo sul campo vado di x easily faccio rimettere nel deck il link e attacco faccia ragazzi questo duello è durato mi sembra se non ricordo male 10 turni e iniziamo ragazzi allora l'arlecchino quando viene attivato una carta trappola o mia o dell'avversario noi possiamo evocarlo specialmente ed è comunque un 2006 2002 di tutto rispetto inoltre ha vari effetti di cui il primo possiamo bandire un numero di carte trappola dal cimitero quindi 1 2 3 4 e poter distruggere un numero di carte dell'avversario pari alle carte trappola bandite quindi se ne bandiamo 1 2 3 possiamo tranquillamente comunque distruggere 3 carte dell'avversario inoltre quando l'avversario evoca un mostro noi possiamo tranquillamente equipaggiare una carta trappola dal deck ovviamente carta trappola prodigioso ragazzi prodigio anzi dal deck all'avversario quindi possiamo mettere tranquillamente o casa degli orrori o comunque qualche altra carta trappola che potrebbe interessarci assistente comica doppio effetto molto simbatico devo dire la verità quando viene evocata noi possiamo prendere una carta prodigio e posizionarla coperta sul campo secondo effetto possiamo cambiare l'equipaggiamento delle carte trappola quindi se per esempio magari questa carta trappola è equipaggiata all'avversario noi possiamo staccarla equipaggiarla al nostro mostro ovviamente gira della dualità ragazzi perché ci serve per pescare carte anche se non ci permette di evocare specialmente ma a noi pochi importi in realtà come mazzo gira abbastanza bene anche in questa maniera comunque si il link aiutano quindi attenzione sempre a queste giocate ma comunque prima seconda mano tutto sommato la gira della dualità aiuta perché ci permette di pescare le carte che ci servono biletto tempo incredibile a doppio effetto ragazzi quindi comunque paghiamo gli 800 life points ovviamente nel nostro turno possiamo pescare una carta prodigio prodigioso dal deck alla mano solitamente andiamo a scegliere comunque o l'allecchino se non l'abbiamo in mano o una qualunque carta trappola mentre se nel turno dell'avversario noi possiamo addirittura posizionare la carta trappola ma la cosa simpatica è attivarla immediatamente e devo dire a verità che è una cosa comunque molto molto utile queste comunque le saltiamo le conosciamo un po' tutte casa degli orrori attrazione prodigio doppio effetto se equipaggiata al mostro dell'avversario l'effetto rapido della carta è che possiamo metterlo coperto come un libro della luna se invece è equipaggiata ad un nostro mostro possiamo negare l'effetto di un mostro dell'avversario quindi una carta forte sia se è data all'avversario sia se è data a noi poi abbiamo il ciclo montagne vabbè ciclo montagne russe comunque carta molto forte quindi se equipaggiata al nostro mostro possiamo distruggere una carta una carta magia o trappola dell'avversario se invece noi la diamo all'avversario possiamo prendere comunque un mostro prodigioso ma a mio parere comunque non ho avuto problemi tali da dover dare equipaggiata la carta mostro all'avversario ma sinceramente l'ho trovata veramente utile se la carta cioè equipaggiamo i nostri mostri andiamo a distruggere le magie o trappole dell'avversario corse rapida ok ne ho messo una sinceramente secondo me uno o due al massimo non più di tanto se viene equipaggiata al mostro dell'avversario noi possiamo cambiare la posizione del mostro dell'avversario e inoltre aumentare il suo livello di uno quindi abbastanza utile qualora volessimo bloccare un'evocazione xyz o un sincro oppure se l'abbiamo equipaggiata noi possiamo cambiare la posizione del nostro mostro però in questo caso possiamo prendere una carta dal cimitero dell'avversario e rimetterla nel deck tutto sommato sono defetti comunque abbastanza utili tutto dipende dal matchup che ci troviamo il resto è un back row ragazzi classico extra deck come potete poter vedere cavaliere dell'incubo finice ho utilizzato anche castel moschete spacca cielo qualora magari non l'aveste non è un problema potete abbinare anche numero 39 utopia e utopia il fulmine devo dire la verità comunque xyz molto forti molto utilizzati comunque li tendiamo a utilizzare un po' per chiudere la partita il resto delle carte dei link comunque io non li ho usati però comunque sono abbastanza utili in base al matchup che vi trovate e come abilità incremento l'ep alfa fino ad ora sinceramente non ho trovato delle abilità comunque un po' magari adeguate per questi di qui magari farò vari esperimenti per vedere se c'è qualcosa di più inerente a questo deck ma lo di verità tutto sommato gira abbastanza bene anche in questa maniera non è un problema il mazzo ha dato anche dei risultati abbastanza simpatici e detto questo io spero di avervi chiarito comunque il deck prodigioso come funziona devo dire una meccanica all'inizio magari può risultare forse un po' rompiscato perché uno deve ricordare nel mio mostro tuo mostro ma in realtà comunque fatto imparare le prime due carte il resto è abbastanza semplice devo dire anche le carte trappola comunque sono anche abbastanza forti detto questo io come sempre vi ringrazio noi ci vediamo a un prossimo video alla prossima ciao